Un saluto ai nostri radioascoltatori e altre radioascoltatori, io sono Ines Fortunato e oggi siamo qui con una nuova puntata del nostro programma Omnibus e con la rubrica Laudato Sì e la profezia dalle comunità. Oggi abbiamo l'onore di avere qui con noi Antonio Caschetto che coordina i programmi per l'Italia attraverso la formazione e appunto il coordinamento degli animatori Laudato Sì e dei circoli. Ciao Antonio e grazie per essere qui con noi. Laudato Sì mi signore, in questo saluto veramente vi dico grazie per l'invito e per lo spazio. Ecco avere qui Antonio mi emoziona particolarmente, uno perché io sono animatrice Laudato Sì, l'anno scorso ho fatto il corso Laudato Sì e due perché è una persona così piena di sentire bello che riesce a trasmettere una certa calma, una certa tranquillità quando ci racconta delle sue esperienze di vita che risultano poi significative ed importanti. Ecco la prima domanda che vorrei farti proprio per rompere il ghiaccio è che cosa sono i circoli Laudato Sì e se possiamo anche spiegare in cosa si differenziano dalle comunità Laudato Sì, Antoni. Sì grazie. Nascono entrambe dentro il solco dell'enciclica di questo stupendo libro che ha scritto Papa Francesco e per il quale consigliamo a tutti l'acquisto e la lettura, ecco perché è un libro che apre, è una lettera bellissima che il Papa ha scritto a tutte le persone che abitano nel nostro pianeta, quindi non è scritta solo per i cristiani, ma è scritta per tutti. Poi ognuno la può declinare e vivere in modo diverso e allora ci sono nel mondo tanti cammini di cui ecco il movimento Laudato Sì è uno dei sentieri ed è bello vedere come ci sono dei sentieri paralleli, camminiamo insieme, ci sono dei cammini quasi da cugini e in questa sono proprio le comunità, le comunità Laudato Sì, sono diverse dai circoli. I circoli Laudato Sì appartengono proprio alla rete del movimento Laudato Sì e nascono proprio come dei gruppi di preghiera e di riflessione e di azione all'interno delle realtà cattoliche, quindi parrocchie, associazioni, movimenti, istituti di istruzione, in alcuni casi anche ospedali, istituti religiosi e nascono per approfondire in una chiave di ecologia integrale e di preghiera nel creato la spiritualità della Laudato Sì. Invece le comunità Laudato Sì nascono all'interno di un'iniziativa che va anche al di fuori del recinto cattolico perché nascono da un'iniziativa di un vescovo, un signor Domenico Pompili, vescovo della Chiesa di Rieti e di Carol Petrini che è il fondatore di Slow Food. Nascono proprio per un modo di applicare i valori dell'enciclica Laudato Sì alla terra e quindi sono delle comunità radicate in attività che possono coinvolgere anche l'agricoltura e che sono accomunate insieme da una forma molto bella di solidarietà che viene fatta nei confronti della Chiesa di Rieti in modo particolare la situazione di Amatrice. Quindi ogni anno si svolge un forum che raccoglie queste comunità e che camminano insieme. La differenza è sostanziale perché nel caso dei circoli non c'è la necessità di avere lo spazio agricolo per esempio mentre questa è una caratteristica che mette in comune molte comunità Laudato Sì e dall'altro è il fatto che noi accompagniamo anche in un cammino di preghiera, un cammino spirituale che è mensile e che è fatto anche con incontri trimestrali in cui i referenti dei circoli hanno modo di vedersi e di mettere in condivisione le proprie esperienze. Ecco, quando parliamo di sinodalità queste due realtà che non si escludono l'una con l'altra ma che anzi sembrano veramente essere parenti e prossimi, tu hai detto giustamente cugini mi fa pensare a quella parte bella della Chiesa che appunto fa sinodo su tante tematiche ma rispetto a questa differenza che hai tracciato vorrei chiederti quindi da cosa nasce l'urgenza di recuperare questa dimensione più spirituale rispetto al rispetto, perdona il gioco di parole, del creato? Sì, la cosa bella, geniale dell'enciclica della Laudato Sì di Papa Francesco ma ancora prima io parlo qui da Sisi quindi è la terra del Laudato Sì perché insieme alla Laudato Sì prima c'è un Laudato Sì che è stato pronunciato da San Francesco nei prati di San Damiano a Cunicino in entrambi i casi si parte da un'idea così un po' superficiale chi legge con poca attenzione entrambi questi documenti sia la prima poesia italiana, il cantico, sia questa enciclica meravigliosa pensa subito che siano dei testi ecologisti, l'enciclica verde in realtà poi sono la legge bene, dentro c'è molto di più, è un'enciclica sociale ma poi il Papa quando descrive per esempio a Laudato Sì dieci quando descrive San Francesco lo descrive con quattro caratteristiche particolari la prima è la preoccupazione per la natura quindi è quell'aspetto classico che abbiamo di San Francesco con l'uccellino che parla, ecco fa la pratica agli uccelli, il lupo di Gubbio, la cicala quei racconti anche un po' infantili che ci danno quell'immagine di San Francesco molto bucolica però non è solo quello perché in Francesco c'è anche la prossimità nei confronti dei poveri l'impegno nei confronti dei poveri, c'è l'abbraccio del lebroso che ha sconvolto la vita di Francesco e l'ha cambiato quindi come dice poi il Papa Laudato Sì 49 bisogna ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri poi la terza dimensione è l'impegno nella società quindi San Francesco aveva un impegno forte nella propria città e aveva un impegno politico, una più maiuscola di politica di San Francesco e il quarto che descrive veramente l'ecologia integrale in tutti gli aspetti il quarto aspetto che è il più importante dei quattro è la pace interiore in San Francesco si riscontra questa ricerca di pace interiore che è data dal rapporto pulito di Francesco con il padre, con il padre celeste, con Dio che poi ci fa rendere tutti creature cioè il fatto di cantare il cantico delle creature e dire che tutto è fratello e sorella il sole, la luna, le stelle, il fuoco, l'acqua, madre terra per giunta alla nostra morte e sorella questo è solo possibile perché Francesco riconosce un unico, grandissimo, altissimo, onnipotente, buono creatore e quindi quando noi cerchiamo di recuperare tutte queste quattro dimensioni recuperiamo un po' l'ecologia integrale ed è veramente il senso compiuto di vivere un'ecologia che poi diventa anche conversione all'ecologia integrale una conversione ecologica per avere una conversione ecologica è necessario non solo lavorare sull'aspetto naturalistico lo stile di vita ma su tutte e tre queste dimensioni, su tutti e quattro, questi quattro ambiti io ti ringrazio di aver sottolineato come non sia possibile né opportuno licenziare la laudato sì come una enciclica verde noi nelle scorse puntate di questa rubrica ne abbiamo discusso anche con la teologa professoressa Cristina Simonelli la quale ci ha brillantemente spiegato come appunto è riduttivo come dire, pensare alla laudato sì come ad un'enciclica che si occupa semplicemente di ecologia per questo motivo le tre parole che accompagnano i circoli laudato sì sono canto, grido e azione del creato ma che significato assumono in questo tempo? cioè nei tempi che stiamo vivendo oggi queste tre parole e come si possono declinare affinché da queste noi possiamo come dire assumere degli atteggiamenti che siano appunto di cura rispetto alla nostra terra sì, una delle azioni importanti che noi cerchiamo di portare avanti che è un processo educativo ma che educa anzitutto noi cioè ci educa tutti insieme sia gli animatori, sia i referenti dei circoli, sia le organizzazioni membro sia anche noi stessi che facciamo parte anche del team che è un pochino anima a livello italiano, internazionale, il movimento noi siamo in questo cammino in cui convivono un po' come diceva San Paolo, convivono il ridere e il piangere da un lato noi abbiamo la necessità di educarci alla contemplazione alla contemplazione della bellezza e la diamo veramente quasi per scontata anche i bei colori che ci dona il creato ogni giorno un cielo, la melodia delle creature, gli uccelli hanno dentro una sinfonia, una bellezza che a volte noi corriamo troppo e ovunque ci troviamo siamo sempre indaffarati con i nostri cellulari, con i nostri tablet, con le nostre televisioni con le nostre case chiuse abbiamo a volte tanta fretta in macchina e rallentiamo poco diamo poco spazio alla contemplazione che è tipica dei bambini i bambini guardano i fiori quando uno diventa nonno quasi riscopre con i propri nipoti certi tempi, perché rallenta e ha modo di quasi notare cose che quando uno è indaffarato nella vita lavorativa veramente quasi non ci fa caso invece questo è un atteggiamento che non è solo bucolico, così naturalista ma è un atteggiamento contemplativo è un atteggiamento teologico e questo ce lo insegna proprio Francesco ma ce lo insegnano tanti santi tantissimi santi avevano questo dono di rallentare di contemplare e di leggere dentro il creato dentro i colori, dentro i suoni di leggere veramente il linguaggio di Dio perché diversi lo dicono da Santo Masodacuino, Santo Agostino i padri della Chiesa spesso dicevano le Sacre Scritture Dio ci parla attraverso due libri c'è un libro che è stato scritto prima che è il libro delle opere è il libro che noi leggiamo in lingua originale sono i colori, è il creato, è la bellezza e poi c'è un altro libro che Dio ha dovuto scrivere per l'uomo fatto di parole e questo è il libro un po' della legge questa è la prima parte la contemplazione noi dobbiamo imparare a rallentare e in questo processo educativo noi ritroviamo tanti momenti molto belli di preghiera in cui preferiamo sempre stare immersi nel creato quanto è bella una cattedrale fatta di bosco fatta di alberi e celebrare per esempio la messa un ritiro spirituale una per esempio anche una quando ci si confessa una liturgia penitenziale fatta dentro un bosco dentro un'area verde vicino al mare queste situazioni di preghiera ci mettono veramente in connessione con il creato ma poi noi non viviamo da illusi nel senso che sappiamo che nel mondo c'è anche tanto male c'è tanta ingiustizia in tante situazioni è l'uomo che c'entra c'entra l'uomo nel grido della terra quindi tutto quello che sta succedendo a livello climatico ora noi abbiamo avuto altre emergenze per cui quella che è l'emergenza del clima sembra quasi che uno non ne parli però c'è rimane e anzi ha degli impatti molto più forti in termini di povertà in termini di migrazioni di quella che non può essere una pandemia o peggio una guerra ecco il cambiamento climatico genera veramente drammi per intere popolazioni che ahimè sono troppo lontane da noi e dobbiamo dire che ultimamente questi cambiamenti climatici noi li vediamo anche nelle nostre latitudini voi ecco in provincia di Ragusa a ottobre avete avuto gli impatti di un clima impazzito che non si vedeva arrivare un tifone alle nostre latitudini anche se in dimensioni ridotte però comunque danni li ha fatti ha fatto anche delle vittime ma insieme a questo si aggiungono anche altri gridi il grido delle specie le specie che vengono che sono costrette ad andare in via d'estinzione o a estinguersi a tutti gli effetti è come quella sinfonia che dicevamo prima dalla quale noi togliamo degli strumenti e questi strumenti noi non li sentiremo più e San Francesco usava tutti gli elementi per dare lode a Dio è molto bello il quinto verso del cantico dice Francesco ci dice che null'uomo è ne digno te mentovare nessun uomo è degno di nominare Dio quindi laudato si non è a parole è facile dire sia laudato signore scriviamo delle preghiere bellissime composte in italiano perfetto che toccano il cuore fanno piangere ma poi a volte sono delle preghiere vuote sono delle preghiere come anche capita con le persone che le elogia amo che bravo che sei poi uno non lo pensa realmente ecco Francesco vuole un dialogo autentico con Dio e allora le parole bastano poco perché a volte sono anche un po' ipocrite allora lui vuole utilizzare altre parole e queste parole quel per laudato si mi signore per sora luna per sorella acqua per fratello fuoco cioè attraverso fratello fuoco attraverso l'acqua Francesco loda il signore e allora questo noi possiamo farlo anche con le specie quindi se noi iniziamo siamo con i nostri stili di vita costringiamo le specie a estinguersi queste non daranno lode a Dio e quindi togliamo uno strumento di lode ai nostri fratelli e ai nostri sorelle che verranno dopo le future generazioni quindi noi dobbiamo guardare anche alle future generazioni in questo si mettono tanti gridi il grido della guerra il legame che c'è tra la guerra e i combustibili fossili per esempio adesso è sotto gli occhi di tutti ma noi è una denuncia che proviamo a fare da svariati anni portiamo avanti delle campagne che sono proprio le campagne del disinvestimento dalle fonti fossili proprio per questo motivo per costruire per essere in qualche modo nel nostro piccolo artigiani di pace questi sono i due momenti un momento di contemplazione di bellezza ma poi un momento di attenzione di ascolto di questo grido quindi c'è il canto e c'è il grido non sono due momenti separati noi diciamo sempre come l'esistola e il diastole del cuore non è che c'è solo una fase del cuore oppure l'altra è come ispirare ed espirare cioè non esiste solo ispirare e basta noi dobbiamo prendere e lasciare prendere e lasciare e questi due momenti generano la vita generano il terzo terzo momento che è quello della chiamata all'azione è come quando Francesco si trovava a San Damiano da giovane e chiedeva nella propria percorso di conversione chiedeva cosa vuoi che io faccia a Dio e Dio Gesù attraverso gli occhi aperti di un crocifisso gli rispondeva va e ripara la mia casa e come vedi va tutto in rovina adesso è come se Papa Francesco abbia ascoltato una chiamata molto simile va e ripara la nostra casa cambia solo l'aggettivo possessivo da mia a nostra dalla chiesa intesa veramente come comunità dalla casa intesa come chiesa come chiesa universale alla casa la casa comune loikos allora questa è la chiamata che ci interpella ci interpella in tutti i livelli avendo come modello appunto San Francesco nell'abbraccio con Debroso nell'attenzione con il creato nell'avere uno stile di vita più sostenibile più sobrio cercando di impattare il meno possibile sul nostro pianeta e quindi questo poi noi lo cerchiamo di declinarlo ogni giorno con delle iniziative per esempio adesso siamo in Quaresima abbiamo proponiamo spesso dei digiuni che siano sia dei digiuni liturgici legati comunque alla Quaresima alla tradizione ma ai quali aggiungiamo anche dei digiuni particolari con un'attenzione al pianeta quindi un anno abbiamo digiunato dalla plastica un anno dall'elettricità e quest'anno proprio dovuto veramente alla cronaca della guerra abbiamo scelto di fare un digiuno dal gas quindi limitare i nostri consumi nel gas di uso del gas per provare in qualche modo a essere vicini nella preghiera nel digiuno e nelle opere di carità anche i nostri fratelli dell'Ucraina le nostre sorelle dell'Ucraina quindi ecco una forma veramente anche di solidarietà di solidarietà concreta quindi limitando un po' il nostro benessere ma cercando di essere vicini a queste popolazioni Sì ti faccio un'ultima domanda tu prima hai parlato di una chiamata e oggi sono tantissimi giovani e meno giovani che si sentono in qualche modo chiamati dall'audatosi e che scelgono di far parte di questi circoli ecco ci spieghi come si diventa e cosa significa oggi essere un animatore o un'animatrice laudatosi Allora per diventare animatore è molto semplice adesso c'è una è in corso insomma le iscrizioni per partecipare al prossimo corso animatori che inizierà dopo Pasqua quindi entro giovedì avete tempo per iscrivervi c'è proprio il sito laudatosianimator.org e nella sezione IT ok perché il corso animatori viene svolto in diverse lingue in tante parti del mondo contemporaneamente quindi insieme al corso di formazione che abbiamo qui in Italia c'è pure in Africa in Sud America nelle Filippine in Europa in diverse aree lingua francese lingua portoghese quindi ecco è bello formarsi sapendo che in tutto il mondo ci sono persone con lo stesso spirito con la stessa voglia di impegnarsi per il pianeta il corso è molto semplice non ha nessun costo anzi ci sono anche delle promozioni i nostri media partner come avvenire aggiornamenti sociali offrono anche delle belle promozioni che sono destinate a chi si iscrive al corso animatori e poi sono quattro incontri da un'ora online dove ci sentiremo ascolteremo dei relatori l'anno scorso per esempio dalla Sicilia avevamo Don Corrado Dolorefice l'Arcivescovo di Palermo che era il mio parroco a Modica a San Pietro quindi ci lega veramente proprio un'amicizia quest'anno abbiamo un altro siciliano doc abbiamo Giuseppe Notar Stefano il presidente dell'azione cattolica italiana ma abbiamo ecco diversi diversi relatori animatori laudato si scienziati vescovi attivisti giornalisti abbiamo Giada Aquilino giornalista dell'osservatore romano quindi ecco abbiamo diciamo una biodiversità di linguaggi molto bella che ci dà l'idea della biodiversità dei carismi che c'è un po' nella chiesa che è un po' il principio del movimento laudato si e del corso animatori che è promosso da tante realtà religiose associative e movimenti abbiamo veramente una una coralità di voce molto bella quindi veramente l'invito per tutti a partecipare a questa formazione molto semplice poi insieme a questa c'è l'attività dei circoli anche per quanto riguarda i circoli potete cercare tranquillamente in rete circoli laudato si e sempre sul sito trovate sul sito del movimento laudato si l'iscrizione anche lì è molto semplice basta raccogliere intorno a noi una piccola comunità di persone che si raccolga anche intorno a un sacerdote meglio se c'è un sacerdote e iscriversi sulla pagina anche in questo caso l'iscrizione non costa nulla non richiede nessun obbligo salvo il piacere di camminare insieme e poi se un circolo organizza un'attività una una riflessione viene messa in comunicazione con i circoli italiani al momento in Italia sono attivi circa 150 circoli in tutto il territorio nazionale quindi è un bel gruppo che dialoga quotidianamente con diversi strumenti ci si incontra online periodicamente abbiamo degli incontri periodici sia come rete nazionale con degli incontri mensili sia con degli incontri specifici per queste attività che sono di solito trimestrali però ecco tutto è sempre abbastanza libero perché la cosa bella del movimento è che è composto sempre da persone che comunque sono impegnate nelle proprie realtà quindi noi non vogliamo essere un di più che carica ulteriormente di attività di agende ah ho l'incontro devo partecipare no è sempre tutto molto libero però per noi è come un pozzo quindi dal quale ognuno può versare dell'acqua viva anche di esperienza di incontro con Gesù di spiritualità di preghiera di talenti non ci dimentichiamo che laudato si 14 il Papa ci ricorda che i talenti e il coinvolgimento di tutti sono fondamentali per riparare il danno che gli umani hanno creato al nostro pianeta quindi i talenti di ciascuno ognuno di voi ha un talento allora ognuno di noi ha questo talento può sotterrarlo avere paura di Dio oppure provare a investirlo a metterlo a disposizione degli altri e chi ha un talento ne produce uno chi ne ha dieci ne produce dieci e quindi ognuno di noi è chiamato a mettere a disposizione questi talenti ecco il gruppo degli animatori è bello proprio perché rallentando contemplando abbiamo modo anche di fare memoria dei nostri talenti c'è chi è bravo a cantare c'è chi è bravo a suonare c'è chi è bravo a comporre poesie a scrivere preghiere c'è chi ha una bella sensibilità operativa chi è bravo a organizzare quindi ognuno ha un piccolo talento ecco nel movimento questo può essere messo a disposizione e diventare esempio per altri ecco noi lavoriamo molto sui cammini ci piace molto bello che il primo riferimento che hai fatto Ines sulla sulla sinodalità e noi siamo in un cammino sinodale molto bello che la chiesa si interroghi qual è la sinodalità della chiesa fare un sinodo sulla sinodalità è geniale come idea per noi camminare insieme non vuol dire solo ascoltarci tutti perché poi ognuno ha anche opinioni diverse è bello l'ascolto è importante è la prima cosa però l'immagine che non dobbiamo dimenticare di sinodo e di sinodos come proprio il termine camminare insieme è il camminare insieme con Gesù l'immagine che insomma dovremmo un pochino avere sotto gli occhi è quella dei discepoli di Emmaus alla fine del Vangelo di Luca si cammina insieme si cammina insieme a Gesù e Gesù è lui che ci spiega le scritture i profeti la legge e ci dice come si compie la parola da vita alla nostra vita e poi noi camminando insieme come capitava appunto ai discepoli di Emmaus probabilmente non lo riconosciamo noi spesso non riconosciamo Gesù nel povero nel nel pianeta che stiamo distruggendo nelle future generazioni che arriveranno ecco noi siamo chiamati a incontrare Gesù in questi luoghi a volte non lo non lo capiamo però quando poi Gesù si dilegua ecco lì ci arde il cuore e torniamo correndo ecco la cosa importante è che questo incontro questo camminare insieme questo sinodo questo muoverci con passo sinodale generi noi un fuoco perché poi se invece questo ci deve appesantire ci deve creare più problemi allora vuol dire che forse qualche passaggio non è arrivato quando si incontra Gesù sicuramente dentro il cuore scoppia veramente un incendio e allora poi quel fuoco non si può più trattenere e diventa contagioso più contagioso del covid più contagioso di omicron 2 diciamo sempre quando cerchiamo di diffondere questa gioia questo questo incontro con Gesù ci avviciniamo alla settimana santa e veramente sono questi momenti liturgici che ci fanno veramente pensare tanto che veramente la fede si fonda su un incontro quindi per questo invitiamo tutti a unirsi anche a questo cammino questa cammino ecclesiale nella rete degli animatori si ha veramente tanta opportunità di fare incontri e anche i circoli diventano una bella opportunità per animare e spesso rianimare anche delle comunità delle parrocchie che ecco diversamente potrebbero avere veramente difficoltà a ripartire specie dopo questo tempo di pandemia che ha un pochino rallentato tante attività nella nostra chiesa bene da questo momento che abbiamo passato insieme c'è stato tutto c'è stato l'incontro c'è stato il camminare insieme c'è stato il fuoco che sei riuscito in qualche modo a trasmetterci attraverso la tua passione pur ricordandoci di non perdere mai il fuoco del nostro camminare che è Gesù quindi noi sulla scena di questo entusiasmo e di questa bellissime parole che ci hai dato ti ringraziamo per essere stato qui con noi quindi grazie Antonio grazie a voi grazie Ines veramente per l'invito è sempre una gioia mettere in condivisione questi cammini e un saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici grazie a tutti grazie a tutti a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.